Addestramento con finalità di terrorismo internazionale. Con questa accusa è stato arrestato un diciassettenne di nazionalità tunisina residenti a Taranto. Al fermo del minore da parte della Polizia di Stato si è giunti dopo una lunga ed articolata attività investigativa coordinata dalla DDA di Lecce ed in collaborazione con la Procura dei Minori di Taranto. Nello specifico il personale della Digos di Taranto, gli investigatori della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dando esecuzione al decreto emesso della DDA di Lecce, hanno perquisito l'abitazione di una coppia di tunisini residenti a Taranto e genitori del diciassettenne. Nella stanza del giovane in particolare è stato rinvenuto materiale particolarmente compromettente. Quadri e disegni riproducenti vessilli dell'Isis, video e foto di operazioni dell'associazione terroristica rinvenuti in dispositivi elettronici in uso al minore e addirittura manoscritti contenenti istruzioni, disegni e calcoli matematici per la progettazione e realizzazione di un razzo. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, accogliendo le risultanze della locale Procura dei Minori e della Digos, ha convalidato l'arresto disponendo l'accompagnamento del diciassettenne presso un istituto penale minorile. Grazie. 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 Grazie.